Sono Leo Muscato, il regista della Manon Lescaux, l'opera con la quale si inaugura la stagione del Comunale di Bologna. Abbiamo appena finito di provare il finale, che era in qualche modo la parte più complessa da poter risolvere. Siamo estremamente contenti, felici della resa, dell'idea e soprattutto del modo in cui poi gli interpreti l'hanno eseguita. Il interpreto Manon Lescaux, che non è solo una giovane innamorata del suo degri, è un personaggio sfaccettato, ricco di mille sentimenti che cambiano e sono in continua evoluzione durante tutta l'opera. Abbiamo giocato molto sull'interpretazione, proprio parola per parola. L'amor mio non muore, dice lei sul finale, perché in qualche modo loro riescono con le unghie, con gli artigli, a rimanere legati al loro amore in un modo in cui, insomma, se venite a vedere il nostro spettacolo lo troverete molto molto commovente. È una nuova produzione, non posso svelare niente, ma sarà bellissima, dunque venite numerosi.